Sono il mostro di Foligno, mi chiamo Luigi Chiatti e la mia storia è segnata da un passato difficile e tormentato. Sono nato nel 1972 a Narni, e fin da piccolo ho vissuto in un orfanotrofio. Non ho mai conosciuto la vera famiglia e il calore di un vero affetto. Nell'orfanotrofio, ho subito abusi sessuali da parte di un prete. Questa terribile esperienza ha segnato profondamente la mia psicologia e ha alimentato dentro di me un desiderio perverso e incontrollabile, l'attrazione verso i bambini. Non riesco a spiegare perché questo desiderio si sia radicato così profondamente in me, ma è diventato una parte oscura e inconfessabile della mia personalità. Nel 1987, quando avevo 18 anni, ho ottenuto il diploma di geometra e sembrava che la mia vita stesse prendendo una svolta stabile. Ho trovato un lavoro e ho cercato di costruirmi una vita normale. Tuttavia, dentro di me, l'inquietudine e il desiderio malsano erano sempre presenti. Il 4 ottobre 1992 è stata la data in cui ho compiuto il mio primo omicidio. Quel giorno ho incrociato lo sguardo di Simone Allegretti, un bambino di soli 4 anni e mezzo, e ho deciso che sarebbe stato la mia vittima. L'ho attirato con un pretesto e l'ho portato a casa mia. Una volta dentro, ho iniziato a toccarlo, ma il bambino ha cominciato a piangere. La sua reazione mi ha infastidito, e ho schiacciato la sua mano sul viso per farlo tacere. Credendo che fosse morto, ho deciso di abbandonare il suo corpo sul ciglio di una strada di campagna. Ma quando l'ho appoggiato a terra, mi sono accorto che respirava ancora. Con rabbia e ferocia, ho finito il suo respiro con due coltellate alla gola. Quel giorno ho perso completamente il controllo di me stesso. L'omicidio di Simone ha gettato nella paura e nello sgomento la comunità di Foligno. Ma il mio desiderio di attirare l'attenzione e di stabilire un rapporto con le autorità mi ha spinto a rivendicare l'omicidio e a far ritrovare il corpo. Sono diventato noto come l'emmostro di Foligno, e ho iniziato a comunicare con le autorità, sfidandole apertamente. Ma la mia sete di sangue non si è placata. Il 7 agosto 1993 ho rapito Lorenzo Paolucci, un ragazzo di 13 anni. L'ho attirato in casa mia con la scusa di giocare a carte, e poi l'ho colpito alle spalle con un forchettone. Prima di ucciderlo, mi ha chiesto, perché mi vuoi uccidere? Quelle parole hanno reso ancora più atroce la mia violenza. L'ho colpito sei volte. Al petto e ho gettato il suo corpo in un canale. Dopo l'omicidio di Lorenzo, sono stati intensificati gli sforzi per catturarmi. Ho continuato a inviare lettere e indizi alle autorità, quasi come se volessi essere scoperto. La mia fame di notorietà e la mia devianza hanno guidato le mie azioni. La mia cattura è avvenuta il 15 agosto 1993, grazie all'attenta opera investigativa delle forze dell'ordine. Sono stato arrestato e processato per i miei crimini. Nel processo, ho cercato di spiegare la mia malattia mentale e la mia incapacità di resistere ai miei istinti più oscuri, ma non c'è giustificazione per i miei atti. Sono stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Simone e Lorenzo, e oggi sono rinchiuso in un carcere, lontano dalla società. Mi rendo conto del dolore che ho causato alle famiglie delle mie vittime e a tutta la comunità. Mi pento profondamente delle mie azioni, ma so che nulla potrà mai cancellare il male che ho fatto. La mia storia è un triste esempio dell'oscurità che può nascondersi nell'animo umano. Spero che il mio caso serva da monito per tutti, affinché si prenda consapevolezza dei segnali di devianza e si prenda sul serio la protezione dei bambini.